A un certo punto è saltato su uno e ha detto, secondo me Andreotti è da. E lì è incominciato il casino. Forse non stiamo parlando della stessa persona, non ce ne saranno mica due. Anche Andreotti si è bravissimo, io questo l'ho sempre saputo. Che sappia fare il suo mestiere, questo è chiaro, è già lì da un po'. Quello che viceversa da un certo punto in avanti è stato sempre meno chiaro, è quali sono quelli bravi e quelli no. Come si fa di stile, eh? I capaci. Una volta erano bravi quelli che la pensavano come te. E per quelli che la pensavano come lui, Giulio era presto. Ora è bravo per tutti. Anche per quelli che non la pensano come lui. E già, perché questo spopolamento generale, politica, cultura, spettacolo, è bravolo tutto. Non sono le idee che contano, no. Non è la visione delle cose, no. Non è la qualità dell'impegno, no. È l'astuzione del mestiere che conta, è la parruzza che dicono, bella dura. Che conta? Che conta? Che conta? È l'audience. Si vanno le statistiche, i sondaggi d'opinione, le indagini di mercato e alla fine Pippale! Chi è testa è il più bravo. Pippo Vaudo è il primo da duecentoventi settimane. Craxi resiste al secondo posto, incalzato dalla carlacca in netta scesa. Poitivo è stanzionario. Seguono Spadolini e Carmen Russo a pari di retto. Ma sì, ma sì. È inutile stare andando a risottini. È inutile stare a valutare la gente per quello che dice, per quello che fa, per come si comporta. Ma chi se te frega! L'importante era indietro le masse. 5 milioni! Guarda che c'è un ragazzo giovane, nuovo, preparato, molto bravo, ma chi lo conosce? 10 milioni! 20 milioni! Avrei avuto un'idea interessante, nuova, stimolante, ma chi vuoi che ti riporti? 30 milioni! 40 milioni! Ma vantemi parlare, perché io stavo in me a sentire! Ditto, ditto come sei nessuno! 50 milioni! 60 milioni! Tutti! tutti forse no, eh? Forse c'è ancora qualcuno nascosto da qualche parte che ha ancora il coraggio di pensare che una cosa sia bella o brutta, indipendentemente dal successo che ha. Però si deve essere nascosto molto bene, perché è difficilissimo, per il resto non è bello ciò che è bello. È bello ciò che ha. Audience! Applausi! 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 Applausi!